bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi facciamo il Q&A che vi avevo promesso dalla scorsa settimana è uno dei video che io apprezzo di più uno dei format del mio canale che apprezzo di più perché intanto ci mette in comunicazione tra me e la community di tradingon poi riesco a rispondere alle vostre domande soprattutto mi piace perché mi fate delle domande interessanti e oggi ne vedremo quattro in particolare e sono uno un argomento più bello dell'altro intanto vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un mi piace ovviamente commentatemi i video anche con altre domande perché il Q&A lo ripeteremo sicuramente nelle prossime settimane è una cosa che io tanto tanti mesi fa facevo anche ogni settimana nel video di oggi tratterò quattro dei commenti quattro delle domande che mi sono pervenute attraverso i commenti che ritengo più interessanti sono due relative alla price section una domanda relativa al grafico logaritmico e come si costruiscono le trendline e poi dulcis in fondo l'ultima domanda che tratteremo alla fine di questo video relativa al trailing stop e andremo a vedere anche che cos'è il trailing stop come costruirlo bene su un grafico guardando proprio la costruzione di un trailing stop vi farò anche vedere in real time su bitcoin in questo nella giornata di oggi sto registrando martedì ragazzi come applicare ad esempio un trailing stop su una posizione quindi faremo proprio una mini lezioncina alla fine del video allora ecco la domanda ragazzi ce l'abbiamo qui sul grafico grazie Mauro nella price section io oltre un'indicazione di trend non riesco a vedere altro per costruire le strategie di trading meglio utilizzare gli indicatori giusto intanto grazie per avermi inviato questa domanda perché mi premeva chiarire questo discorso nella price section avete solo un indicatore di trend e non altro e per costruire le strategie usiamo gli indicatori assolutamente no allora la risposta è molto semplice perché la price section è proprio una strategia di trading la price section non è un modo di guardare il grafico ma è un modo in cui io riesco a ottenere delle indicazioni dal grafico guardando proprio la composizione quindi la struttura della price section di come i prezzi si sono andati a comporsi e da quelli prendo le mie conclusioni e per fare delle operazioni proprio materialmente mentre invece se utilizzo indicatori oscillatori a quel punto io vado a eliminare la strategia di price section quindi non uso più la price section per operare per fare trading ma userò l'oscillatore rsi oppure un indicatore qualsiasi come anche una media mobile mentre invece la price section può indicarci ad esempio quando il mercato ha fatto un minimo allora mi ingegniamo ad esempio la candela hammer come è creata la candela hammer significa in pratica che il mercato ha raggiunto un livello di minimo mentre stava scendendo a un certo punto offerta e domanda il prezzo di mercato si sono scontrati in maniera differente e poi il prezzo è andato a chiudere al di sopra del minimo di molto di sopra il mercato ha provato a scendere ma non c'è riuscito attenzione potrebbe fare un'inversione quindi io da un'analisi grafica quindi dalla price section analizzando una candela come quella che è la hammer posso ottenere un'informazione ottima anche per operare passiamo al secondo commento di marco gelsomini che ci chiede quanto contano le candlestick nella tua pre section da 1 a 10 allora diciamo che questa risposta è un po scontata ragazzi perché ho risposto in sostanza poco fa la risposta è molto semplice da 1 a 10 le candlestick contano 10 perché nella price section quando analizza una strategia di price section io guardo molti pattern i pattern di prezzo che si vengono a creare alcuni li ho analizzati sono precisi magari sul mercato costruiti sul mercato delle criptovalute altri sono presi dai mercati old e sono magari abbastanza classici però i pattern si costruiscono attraverso la candlestick quindi quello che vi ho indicato prima la famosa hammer è un pattern ed è creato attraverso la candlestick quindi quanto contano le candlestick in un'analisi price section 10 andiamo alla domanda più complessa quella più matematica perché ci porta la possibilità di chiarire un concetto che vale per tutta la community dei trailer che guardano un grafico logaritmico allora lungi da me dare una spiegazione matematica estremamente accurata in questo video youtube perché non è sede ragazzi però una cosa la possiamo dire leggiamo la domanda allora ricci fa questa ottima domanda in un grafico logaritmico a matematicamente senso tracciare delle trend line di lungo periodo diritte ragazzi in un grafico logaritmico immaginate delle trend line di lungo periodo diritte non dovrebbero curvare per logica in particolare nel caso di trend ascendenti come quello di bitcoin al 2011 no perché ho visto di quelle gastronerie vabbè allora l'autore scherza sul da farsi andiamo sul grafico a vederlo un grafico logaritmico come viene creato allora questo è il grafico di bitcoin ragazzi e questo è un grafico logaritmico di bitcoin vedete è fatto così che differenza c'è tra il grafico logaritmico e quello normale quello normale è diciamo così vedete ok quindi ha una curvatura ess essenzialmente diversa rispetto a quello che è il grafico logaritmico perché mette più risalto i prezzi in assoluto il logaritmo invece mette risalto la percentuale di oscillazione e quindi ci dà una visione nel caso di bitcoin più chiara di quello che è il trend di questa cripto voluto perché il grafico lineare prende a riferimento diciamo i prezzi siccome bitcoin ha dei prezzi estremamente variegati è meglio valutare la l'oscillazione percentuale piuttosto che i prezzi in assoluto quindi diciamo concludiamolo così ora qual è il problema però che matematici matematicamente il grafico logaritmico ragazzi non può assumere nel lungo periodo delle trend line diritte quindi rc l'autore del commento ha ragione se io vado a costruire una trend line è fatta in questo modo sul grafico logaritmico tecnicamente è sbagliata perché la trend line dovrebbe curvare man mano che il grafico logaritmico ha un tempo più lungo quindi nel lungo periodo la trend line deve curvare ma nel breve periodo no quindi nel breve periodo la differenza sul grafico logaritmico essenzialmente non è molto rilevante quindi se andiamo a guardare dei grafici di qualche mese una settimana qualche settimana possiamo utilizzare anche delle trend line di questo tipo su un grafico logaritmico quando usa usiamo un grafico logaritmico dobbiamo utilizzare le trend line soltanto nel breve periodo breve insomma tre mesi massimo insomma ok hanno una view che comunque non sono precisissime però va benissimo considerando che siamo nell'ambito del trading che la precisione millimetrica su una trend line non ha nessun senso ragazzi abbiamo risposto alla domanda più complessa ovviamente una risposta non matematica ma va bene così ok andiamo all'ultima domanda quella relativa al trading stop giuseppe genova ci chiede tutto interessante vabbè relativamente al video vorrei sapere cos'è esattamente il trading stop grazie sei bravissimo grazie giuseppe ovviamente del complimento che cos'è il trading stop allora un trailing stop e uno stop loss ragazzi uno stop loss dinamico dinamico significa che si muove immaginate di avere uno stop loss che io fisso a un determinato livello e poi ogni giorno lo alzo ogni giorno lo alzo lo muovo quello è un trading stop andiamo a vedere graficamente come si costruisce un trading stop e anche perché usiamo un trading stop ok ragazzi allora siamo sul grafico di bitcoin contro usb andiamo a vedere che cos'è un trading stop allora ipotizziamo ipotizziamo lo facciamo qua sul quando c'erano i trend in in salita ok ipotizziamo di aver fatto una operazione in questa fascia qui di tempo quindi verso luglio del 2019 siamo qui e siamo entrati long su bitcoin alla rottura di questo massimo quindi quando siamo qui siamo entrati long a 10.000 wow allora siamo entrati long abbiamo fatto la nostra operazione qui di ingresso a un certo punto mettiamo lo stop loss dove lo mettiamo lo stop ragazzi lo mettiamo magari al minimo di questa candela quindi fissiamo uno stop che è qui questo diventa il nostro stop loss se poi andiamo a far progredire ve lo scrivo qui sul grafico ok questo è lo stop loss se andiamo a far andare avanti diciamo il nostro grafico in replay ci rendiamo conto che il mercato continua a salire e io cosa faccio il giorno dopo siccome il mercato sta andando a darmi un profitto cosa ha fatto cosa faccio tiro su questo questo stop è prima lo stop che era posizionato a 95 lo metto a 10.000 ok lo faccio salire a 10 mila dollari poi il mercato avanti ancora va avanti ancora e continua ad andare verso la nostra posizione a questo punto io dico lo salgo ancora e lo porto a 10000 e 5 quindi il mio stop loss che era prima a questo livello prima sale qui a questo punto cosa succede che questo stop loss non è più uno stop loss ragazzi perché perché non vado in perdita perché io ho comprato a 10 mila quindi nel momento in cui sono con uno stop a 10 e 5 si è trasformato in un take profit dinamico quindi il trailing stop in sostanza quello che fa è creare uno stop loss dinamico che sale insieme al prezzo o scende ragazzi che siete short chiaramente al contrario e diventa da stop loss take profit andiamo avanti che vi faccio vedere anche perché avviene questa cosa guardate qui a un certo punto il mercato continua verso la nostra direzione è andata ancora più su e io dico ok salgo ancora il mio take profit in questo caso che è diventato un take profit quindi lo chiamiamo trailing e lo porto a 11 mila e lo mettiamo qui quindi vedete stiamo seguendo il mercato il mercato a un certo punto continua a salire ha ancora un'altra candela io dico ok lo porto a 11 e 5 ed è salito qui quindi stiamo andando ad avvicinare il nostro livello di stop che è stato preso poi questa giornata vedete viene seguito qui e io la mia opposizione che avevo aperto a 10 mila dollari la chiudo a 11.500 e il mio stop loss che avevo messo prima a 9.500 adesso è diventato 11.500 cioè era un trailing stop quindi questo è il sistema il modo in cui un trailing stop funziona a cosa serve un trailing stop a far proseguire i profitti con il famoso detto uforisma del trading molto importante lascia correre i profitti e taglia le perdite esattamente il contrario di quelli che fanno molti neofiti nel trading quando non usano lo stop loss quindi andiamo a far correre i profitti con un trailing stop e questo ci consente di prendere più profitto se il mercato sale ancora rinunciando magari all'utilizzo del take profit e in questo modo siamo sempre protetti perché la mia posizione esce quindi vado a chiudere l'operazione quando il mio trailing stop viene colpito dal mercato quindi solo allora io chiuderò la mia posizione quando si deve usare un trailing stop sarebbe bene utilizzavano i mercati molto direzionali bitcoin per esempio molto direzionale soprattutto nelle fasi long meno nelle fasi short bitcoin poi ragazzi può essere utilizzato in tanti modi diversi per esempio creando delle maxi ricette un super dolce fatto di take profit stop dinamico con il training stop e tante altre tecniche di training ragazzi il training serve anche a questo lo studio del training serve anche questo cioè ad avere tante strategie per poter gestire al meglio i rialzi nei mercati i libassi e qualsiasi siano le situazioni dominanti in un determinato momento bene chiudere del mercoledì bellissimo pieno di contenuti fantastico ragazzi grazie delle vostre domande nei commenti veramente sono contentissimo perché creiamo cultura finanziaria con questi video quindi continuate a scrivermi nei commenti tutto quello che pensate e tutte le vostre domande noi ci rivediamo fine settimana con il prossimo video vedremo cosa succederà ancora sui mercati che stanno ballando e non poco io vi ringrazio come sempre lasciandomi un mi piace se vi è piaciuto questo video e ci vediamo venerdì ciao